Oggi è un'importante operazione denominata San Nicola che per la prima volta colpisce il patrimonio di Feliciano Mallardo, capo storico del clan, e di altri suoi importanti affiliati. Si tratta di un'operazione che ha appunto quella caratteristica di distinguersi dalle precedenti, in quanto si tratta di colpire il patrimonio, mentre con le ordinanze eseguite sempre in passato si colpiva l'aspetto criminale e si trattava di trarre in carcere gli affiliati. In questo caso invece è stato ricostruito il patrimonio, grazie a tutta una serie di strumenti investigativi. In particolare si è dimostrata particolarmente utile l'installazione di una microspia all'interno di un'agenzia di assicurazioni, ovviamente gestita da Feliciano Mallardo, al cui interno avvenivano gli affari illeciti del clan, addirittura avvenivano degli incontri tra Feliciano Mallardo e gli affiliati, alcune vittime di estorsioni si recavano per pagare le cosiddette rate di estorsione e si parlava di altri affari, come il pagamento degli stipendi agli affiliati, la partecipazione a gare di appalto naturalmente truccate e ovviamente tutti quelli che erano gli aspetti criminali, addirittura la pianificazione di veri e propri agguati e di azioni di intimidazione nei confronti di coloro che non volevano sottostare alle direttive del clan e quindi a tal proposito si pianificava di picchiarli o addirittura di usare armi da fuoco. Armi da fuoco di cui il clan disponeva in grande quantità, sia armi corte che armi lunghe, a dimostrazione della sua potenza criminale e quindi del potere di intimidazione nei confronti dell'intero territorio. Oggi è stato possibile sequestrare beni per oltre 17 milioni di euro che sono costituiti da società, da beni mobili e immobili, quali fabbricati, appartamenti, soprattutto nel comune di Giuliano, ma anche un'imbarcazione, oltre naturalmente ai rapporti finanziari e a gioielli e preziosi che sono stati sequestrati nel corso di una perquisizione domiciliare condotta a casa del boss. Questi gioielli costituiscono l'ennesima dimostrazione dello sfarzo e del lusso in cui viveva Feliciano Mallardo e la sua famiglia. Tale lusso è anche supportato dalle stesse intercettazioni ammiendali durante le quali il boss ed altri affiliati si vantavano di poter effettuare acquisti anche di 10 mila euro di gioielli di valore che, come già detto, costituivano una manifestazione di ricchezza del tutto sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati e alle attività economiche lecite. Ricordiamo a tal proposito che Feliciano Mallardo dichiarava redditi esigui come anche la moglie, la quale addirittura risultava falsamente assunta da un negozio di abbigliamento gestito dalla sorella con lo solo obiettivo di avere una fonte di reddito lecita e addirittura avere la possibilità in futuro di percepire una pensione. Quindi siamo al paradosso, cioè una donna che non solo non svolgeva attività ma addirittura cercava di avere in futuro una pensione. Il clan Mallardo purtroppo è ancora molto attivo e questo grazie a delle alleanze strategiche che nel corso degli anni ha stretto e si sono consolidate. Ad esempio con i clan Contini e Liciardi con i quali ha dato origine alla cosiddetta alleanza di Secondigliano ma anche con i clan dei Casalesi. Tutto ciò ha permesso al clan di espandersi e di contrastare possibili tentativi di espansione da clan limitrofi in una logica di alleanze motivo per cui il clan è sempre più forte e soprattutto grazie anche alla disponibilità di armi è molto temuto in quanto nessuno ha la forza di ribellarsi al volere del clan. Lo dimostra anche l'assenza di collaboratori di giustizia tranne l'ultimo Pirozzi che si è dimostrato estremamente utile in quanto ha permesso di fare chiara luce sull'attuale organigramma e sui segreti del clan che fino ad oggi erano in parte sconosciuti. Feliciano Mallardo e il boss avevano una forte passione per la Juventus cosa che lo aveva spinto ad avviare le trattative addirittura per acquistare una parte della famosa stella una delle stelle che si trovano presso l'attuale stadio della Juventus e ovviamente tutto ciò è anche in relazione a altri acquisti di gadget e di qualsiasi altro oggetto riferito alla Juventus una squadra di calcio che lui seguiva fortemente recandosi abitualmente a vedere le partite e quindi non facendosi nessun tipo di problema nel sostenere anche costi esagerati per un normale tifoso.